In Inghilterra, in Irlanda, dove volete, ma non state in Italia, perché? Penso che dei suoi colleghi di lavoro, dell'Irlanda, guadagnano 14.000 euro al mese, lui ne guadagna 3.500 euro. Hai bisogno di una mano? Uno tira e l'altro spinge. Giai i motori in tandem, perché no? Lo buttiamo o lo sbocchiamo? Dai, buttalo. Tieni la pena piena dalla griglia, ma sotto non ce l'è. Dai, dai, speriamo a mettere. Tienilo subito su. Poi una mano, Aldo. Carlo. Dai. No, no, stai lì. Adesso è più alto. È che va da occhio, non lo vedo. Dai, dai, che se la fai calda. Non sei però un pompe di carro. È, dai, dai, dai. Ancora. Clay, sì. Ti arriva. C'è parte. si fa che faccia la crema ma va si si e poi quando piglia la favola si si Buongiorno a tutti. ora vedi la via fino 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 adesso va piano eh no 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 credi anche te cioè tu sa un'altra storia Va bene, mi saluto Ciao 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 Mauri Ciao Ciao